Buonasera, ci troviamo qui a casa di un grande maestro, qui stiamo per divertirci un po', per questo momento ci troviamo con il grande maestro Vicente e Polito, faremo un piccolo assaggino giusto per... Assolutamente, grande novità! Mi amo, lo sai, è un bribido che sale, è come una pezzone, sono tutte parole, non mi fai mai, se è la mia patria, è tutto la mia ascia, dai compagni via, di me con le due mani, di me con le due mani. Grande maestro Vicente e Polito, un bacio a Salvatore, grande, stai nella ripresa, un bacio, a viscita, ti vieni? Grazie, grazie, grande, il Polito, vai sul Polito, vai sul Polito, vai sul Polito, muaaah!